Grazie Presidente. Con molto orgoglio possiamo dire che l'Europa sta costruendo, caso unico al mondo e veramente per prima nel mondo, un'architettura di norme che cercano di dare allo sviluppo digitale così impetuoso, inarrestabile e anche molto utile, sta cercando di dare appunto regole, indicazioni, obblighi, opportunità e soprattutto responsabilità per gli operatori e per gli utenti, anche i cittadini consumatori, da dare responsabilità perché dobbiamo operare tutti alla luce di un principio che è fondamentale per noi, la libertà e i diritti dei cittadini così come quelli dei consumatori devono essere salvaguardati e potenziati anche nello sviluppo dell'innovazione e del mercato digitale. Con il Data Governance Act prima e adesso con il Data Act noi stabiliamo chi può utilizzare i dati e come può farlo, con quali regole e a quali condizioni, chi può dare valore economico nella futura e anche già presente economia dei dati, chi può dare valore economico allo sfruttamento dei dati, chi e come può condividerli, con quali regole e con quali finalità, sempre salvaguardando l'interesse generale e il benessere dei cittadini. L'ultima cosa voglio dire al Commissario, tutto questo impianto è importantissimo, ma starà in piedi se noi svilupperemo la cosiddetta Data Literacy, cioè tutta l'alfabetizzazione digitale perché nessun cittadino di nessuna condizione, età e formazione rimanga indietro rispetto a questo sviluppo. Grazie, grazie onorevole Toia, ora facoltà di intervenire l'onorevole Birkunen, prego.